Allora oggi parliamo di marketing musicale ed è un video tostissimo perché è ovviamente un tema ampissimo, enorme, un tema su cui se ne sentono dire di ogni e quindi è un tema su cui io vorrei porre la massima attenzione rivolgendomi a magari chi ha già una situazione avviata, un progetto avviato, un'attività magari e quindi vuole capire effettivamente ma questo benedetto marketing cioè va applicato, è una cosa che dovrei studiare, è una cosa su cui dovrei mettere attenzione, dovrei concentrarmi allo stesso modo, magari è una persona che ha fatto un determinato percorso e vuole entrare nel settore della musica ma ha senso che si metta a studiare questo benedetto argomento del marketing, ok? E soprattutto, elemento fondamentale, qual è quell'aspetto senza cui, cioè non so come dirlo, qual è quell'elemento senza il quale non si può parlare di marketing? Cioè, o meglio, che fa cadere qualsiasi tipo di strategia, qualsiasi tipo di pensiero legato al tema del marketing del settore musicale. Oggi parliamo di questo, sei su Music Business Italia, ovviamente si parla di strategie, ok? Per migliorare la propria progettualità, la propria resa, la propria rendita progettuale, ok? E voglio trattare questo argomento perché ci troviamo spesso in questo genere di discorsi e situazioni, quindi è bene in generale, secondo me, farne un discorso ed educare sul tema legato appunto al marketing, soprattutto in questo periodo storico. Allora, innanzitutto esiste il marketing strategico e il marketing operativo. Tutti puntano sul marketing operativo e non puntano a far capire qual è la differenza tra l'aspetto strategico e l'aspetto operativo. E devo dire la verità, anche io nel tempo l'ho dato per scontato parlando di questi argomenti, per cui scusatemi, ammetto questa mia mancanza e cerco di colmare questa mia mancanza dandovi questo tipo di informazioni. Allora, il marketing operativo, che cosa sono? Gli strumenti, cioè cosa vuol dire e come viene posto solitamente. Non hai determinati risultati, perché? Perché non sai promuoverti su Instagram, non sai promuoverti su Facebook, non hai usato le ads per spingere il tuo singolo, non hai contattato e hai ingaggiato l'ufficio stampa per promuovere le tue release. Cioè è sempre uno strumento, ok, che in qualche modo dovrebbe amplificare, non si capisce bene che cosa, e dovrebbe essere appunto lo strumento. Cioè cosa vuol dire? Che, vi porto un esempio, cioè se io devo vendere una piastrella, posso usare Facebook Ads. Se io devo vendere una lezione di batteria, posso usare Facebook Ads. Cioè gli strumenti sono uguali per tutti, quindi l'operatività, spesso e volentieri, ha veramente strumenti e caratteristiche comuni. Diversa è la strategia. Quindi il marketing strategico, che cosa significa? È come metto insieme gli ingranaggi della mia strategia, ponendomi dei pre-obiettivi e quindi delle milestone, ok, da raggiungere, ok, che poi metterò in pratica con gli aspetti operativi. Per cui, se ve la devo banalizzare, e su questi temi sicuramente Antonio potrebbe parlarne in un modo più tecnico e più anche specifico di me, no? Però, è un po' come dire, io porto la macchina dal meccanico, un conto è il meccanico che sa come funziona il motore intero della mia macchina e quindi sa stabilire se la macchina ha un problema, da dove può arrivare quel problema e quindi poi, di conseguenza, in base a come il sistema funziona, capire come intervenire. Diverso è il manovale che dal meccanico dice, oh, pinco pallo, c'è da sostituire le candele, questa è la chiave inglese, sostituisci le candele della macchina, ok? Quindi, lo strumento rispetto alla strategia. Questi sono già due argomenti profondamente diversi e che si basano su aspetti totalmente diversi. Motivo per cui pochissime in realtà si occupano di marketing strategico, ok? In modo serio e tantissimi si occupano di marketing operativo. Cioè, trovate a bizzef di uffici stampa, persone che vi dicono, no? Perché il loro posizionamento sulle playlist e poi la promozione su quel da... Perché? Perché quello, se voi ci pensate bene, e vi sto dando delle informazioni che spero possono esservi utili, è molto facile vendervelo. Cioè, cosa vuol dire? Che se io oggi vi dicessi, vabbè ragazzi, allora vi vendo il sistema per fare 10.000 visualizzazioni su YouTube, io direi bene che cacchio ci vuole. Cioè, cosa vuol dire? Imparo a usare lo strumento Google Ads, tu mi paghi per raggiungere quell'obiettivo che io ti sto vendendo, per cui le 10.000 visualizzazioni su YouTube. Una volta che io ti ho detto, guarda, per raggiungere 10.000 visualizzazioni servirà un investimento di X, tu non ti puoi venire a lamentare da me dicendo, ah, però non è successo niente su quelle 10.000 visualizzazioni, ho raggiunto 10.000 visualizzazioni, non è successo niente. Perché io ti posso dire, beh, il mio ruolo era questo. Diverso se io ti dico, no, capiamo qual è lo strumento migliore da utilizzare per la tua strategia che ha questo tipo di obiettivi perché si basa su questo elemento di cui nessuno parla, di cui alla fine vi darò, diciamo, la soluzione, ok? E quindi di conseguenza diventa il marketing strategico è un aspetto di responsabilità. Perché se io vado dal meccanico e il meccanico mi dice, guarda che devi cambiare il motore, eh, cazzo, io mi devo fidare del meccanico. Se poi io cambio il motore ma il problema era sul semiasse e perdo una ruota mentre vado, io vado dal meccanico e gli dico, ma cazzo, me ne ho fatto cambiare il motore quando il problema era sulla ruota, ok? Che è il motivo per cui quasi nessuno, credo ad esclusione di noi, si prende responsabilità sulle parti strategiche. Perché? Perché l'operatività è molto più semplice. Apro un altro argomento importante. Il marketing strategico è settoriale. Cioè, cosa vuol dire? Io vado in assoluta controtendenza. Cioè, se vi interessate agli argomenti di marketing, spesso avrete sentito dire perché le strategie di marketing, quindi le strategie, il marketing strategico, è uguale da settore a settore. Cioè, io posso prendere il settore delle piastrelle, adoperare o raggiungere dei risultati nel settore delle piastrelle, se domani mattina decido di diventare l'esperto di marketing strategico del settore musicale, lo posso fare perché sono un esperto di marketing strategico del settore delle piastrelle e siccome il marketing non ha dei meccanismi che sono comuni, vale sia per le piastrelle che per la musica. Nulla di più falso. Cioè, cosa significa? Che il settore della musica, come il settore delle piastrelle, ha tutta una serie di differenze, ha tutta una serie di necessità a cui rispondere che sono diverse, ha tutta una serie di bias cognitivi da parte dell'utenza che è diversa, ha tutta una serie di necessità di mercato che sono diverse, ha un contesto totalmente diverso. Per cui, primo elemento, il contesto è fondamentale. Perché nel marketing musicale io potrei dire, bene, in che settorialità? Perché se una persona mi dice, applichiamo una strategia di marketing perché il mio obiettivo è quello di ottenere più ingaggi live, io dovrò adottare una strategia, strumenti esclusi, che sia utile a quel raggiungimento di quell'obiettivo. Vi porto sempre il parallelismo automobilistico. Cioè, se io devo andare a correre in Formula 1, sarà bene che ci vado con la macchina adatta, con una preparazione adatta. Diverso è se devo fare, non so, il campionato del mondo di rally. Ok. Qua vale lo stesso discorso, quindi la settorialità e il conoscere il settore è fondamentale. Ora, non so se mi sono perso, io ho fatto qualche appunto, però intanto vado a dirvi quali sono, prima di andare a parlare di questo elemento senza cui qualsiasi parola rischierebbe di diventare fuffa allo stato solido, vi dico quali sono i benefici di studiare bene questi argomenti, soprattutto se siete dei musicisti, soprattutto se siete musicisti che si stanno avviando alla professione, o magari soprattutto anche se siete delle persone che già hanno e ottengono dei risultati, seppur piccoli, ma appunto hanno già delle attività avviate. Il primo aspetto è che il marketing strategico o comunque in generale tutto quello che riguarda gli aspetti legati al marketing, che per chi non lo sapesse significa mettere a mercato, quindi posizionare un determinato prodotto o servizio in un mercato di riferimento, ok, quindi il fine ultimo è la monetizzazione, serve perché cosa? Per migliorare la vostra condizione economica. Quindi io ho segnato sulla lavagna migliorare la tua economia. Cosa significa? Che qualsiasi azione tu farai dal punto di vista strategico di marketing servirà in ultima battuta per migliorare i tuoi risultati. Migliorare la tua economia, migliorare le tue capacità di investimento, avere più possibilità di magari investire in determinati percorsi, quindi poterti formare di più, poter far fronte a quegli imprevisti che all'interno di un'attività ci sono sempre e costantemente, che è quindi avere bene sotto controllo la situazione, tutta una serie di aspetti che migliorano, ok, la vita professionale di una persona. Anche qua, doverosa premessa, scusate, ma è un tema talmente ampio che mi vengono in mente e ve le dico, piantiamola di definire professionista chi non è professionista. Cioè, se una persona non vive del lavoro che fa, non è un professionista. Cioè, il fatto che tu suoni da vent'anni uno strumento non determina il fatto che tu sia un professionista. Sarai un bravo musicista, ma non sei un professionista. È professionista colui che guadagna dalla propria professione. Al contrario, si è dilettanti. Queste sono le due. Mi interessa se uno ha la laurea in conservatorio, se hai studiato da Ron Carter, ok, o se hai studiato da Stravinsky Risorto. Se tu non guadagni con quello che fai nella musica, sei un dilettante, ok? Punto numero due. Dei benefici di studiare bene questo tipo di materie che ti aiuta a fare scelte mirate. Perché io vi potrei dire, e lo vediamo costantemente tutti i giorni, oggi stesso è capitata la stessa situazione, in base a che cosa voi fate le vostre scelte strategiche. Cioè, quali sono quegli elementi che vi dicono è meglio andare a destra anziché a sinistra. Quindi, il fatto di studiare bene ed applicare determinate procedure e concetti legati al mondo del marketing strategico, in questo caso, musicale, aiuta a prendere scelte mirate. Ok? Quindi, a scegliere con più precisione la propria strada e prendere la mira in modo più determinato. Terzo punto che mi sono segnato. Discriminare. Cioè, a cosa servono in ultima analisi le strategie? Servono a fare in modo di avvicinarci e avvicinare a noi il risultato che vogliamo raggiungere. Quindi, in generale, faccio un esempio. Se io sono un musicista che ha magari come servizio un determinato percorso di analisi musicale, ok? Oppure, io sono un produttore che ha un determinato e utilizzo un determinato iter produttivo, bene, se voglio avere a che fare con delle persone o meglio, siccome i clienti non arrivano da noi ma i clienti li scegliamo, è bene che noi adottiamo determinate strategie per fare in modo che arrivino da noi le cosiddette persone in target e quando io parlo di persone in target intendo anche persone che banalmente possono avere le stesse volontà progettuali. Le partnership si basano in larga scala su questo, cioè sull'avere determinati tratti caratteristiche comuni ma avere degli obiettivi comuni. Quindi, anche qua, non so come dire, il fatto di conoscere determinate tematiche ti aiuta tantissimo anche a evitare di perdere tempo con chi non dovresti perdere tempo e invece beccare al volo la persona che ti serve e la persona soprattutto che è allineata con quelli che sono i tuoi valori, i tuoi obiettivi, i risultati che vuoi raggiungere. Ok? Molto importante. Ora, prima di andare su questo fantomatico elemento voglio darvi una frase forte che mi sono segnato che un musicista che non guadagna è un musicista inutile. Ok? Ora, parliamo di professione, di professionismo. Ok? Perché? Perché le situazioni che io, come Michele, ho vissuto nel mondo professionale, cioè in quel mondo di... che vuole essere professionale ma che poi di professionale non ha niente e mi rivolgo a quelle situazioni dove vieni a fare il concerto 80 euro, vieni a fare, a studiarti il repertorio e a farti un culo così per 4 date per 500 euro. Ok? Tutte quelle realtà dove il termine economico ok? Non ti consente di fare una vita dignitosa a meno che tu non sia in una determinata condizione, ok? Che tu abbia una determinata condizione di partenza, ok? Questo concetto è un concetto che io voglio farvi passare, cioè un musicista che non guadagna è un musicista che non avrà, non sarà libero perché sarà un musicista sottomesso a qualsiasi richiesta. Io oggi, per esempio, il fatto di, nonostante abbia passato vent'anni dietro allo strumento, poter alzare il dito medio a una persona che mi dice ah, mi aiuti per favore perché avrei bisogno che ti studi questo repertorio per venire a fare tre concerti alla saga della polpetta, ma vai a quel paese, sono libero. Quindi, in ultima analisi, il fatto di applicare determinate strategie alla vostra situazione vi consente di essere effettivamente liberi perché non c'è nessuna libertà nel non avere la possibilità di scegliere. Cioè, la libertà in ultima cosa è la possibilità di scegliere. Se voi siete costretti a fare la data a 50 euro, a 70 euro, perché se no, al contrario, non avete altre alternative, siete nella cacca e dovete uscirne il prima possibile. Quindi, io ci tengo a dire che un musicista che non guadagna, un musicista inutile e un musicista che non è libero, a costo di essere antipatico ai più, ok? E parlo di professione. Bene, chiudiamo il pippone di 16 minuti. Qual è quell'elemento senza cui non si può parlare seriamente di marketing? Rullo di tamburi, magari lasciate qualche commentino che piace all'algoritmo, così l'algoritmo pompa i nostri video, eccetera eccetera, che sapete, sono pieni di effetti speciali, eccetera eccetera. Bene, i numeri. Quindi, non si può parlare e io sono il primo, alzo le mani, purtroppo è un aspetto che ho dato per scontato e me ne vogliate scusare se solo ora vi parlo di questa cosa, perché anche io certe cose le do per scontate, sbagliando, sbaglio a dare per scontate certe cose, sono i numeri. Cioè, che minchia di strategia possiamo fare senza numeri? Ma anche detto banalmente, se non sappiamo quanto spendi per una determinata cosa, che quali sono per esempio le tue spese legate alla tua attività musicale, quali sono i rate di ingresso e uscita, quali sono i canali su cui tu hai delle fonti di revenue e quali sono invece quei canali quindi che magari hanno un peso più ampio o meno ampio, quali sono quei numeri che ci fanno capire se ha senso o meno direzionarci da una parte o l'altra, di cosa stiamo parlando? Perché è assurda questa cosa qua, però, faccio un esempio, poco fa stavamo parlando con una persona che è anche lì, no, perché io vorrei fare questa cosa? Perché siccome lavoro con tanti artisti che hanno determinati spettacoli che girano in Europa in questo periodo dell'anno, eccetera, eccetera, allora io ho pensato che sarebbe bene fare questa strategia, perché, ma chi ti dice questo? Qual è il numero, qual è quel dato che ci conferma che prendere quella strada è bene e prendere un'altra strada è male? E fidatevi che io su questo, ragazzi, l'ho imparato a mie spese, perché fin quando non abbiamo chiari i numeri e tutti abbiamo i numeri, ok? Qualsiasi tipo di strategia è una strategia campata in aria e vi dirò di più, se non siete capaci di capire come analizzare quei numeri, come interpretarli, quali numeri guardare, quali sono quegli indicatori chiave, ok, che dobbiamo tenere in considerazione e quali possiamo invece evitare di guardare. Questo, per esempio, nell'attività è un dramma, cioè le attività hanno problemi da questo punto di vista e tant'è che cosa succede? Che quando si fanno determinate analisi e si capisce come analizzare tutta una serie di aspetti alla fine i risultati arrivano più in fretta perché? Perché non ci si basa su secondo me no ma la mia sensazione che poi logicamente siccome io credo che il marketing strategico così come anche l'aspetto operativo è in realtà un tema estremamente creativo ok? Quindi anche il marketing è di base un'arte creativa ok? Ma come ogni arte creativa si deve basare sul numero sul dato scusate se mi smoccolo qua ma è così sono conciato da buttare via quindi su che cosa però ci basiamo? Perché sennò facciamo i discorsi del cazzo che si sentono fare anche nel mondo della musica del tipo no vabbè ma io non studio la tecnica per cui sono un batterista ma non studio l'1-1 il 2-2 il flam tap l'inverte flam tap non conosco perché è il percussi art society international drum rudiments è costituito da quattro schemi ben precisi perché perché io vado della mia emozione ok? che sarebbe come dire ok? va bene parliamo senza un vocabolario quindi questo per dire che cosa e perché vi ho fatto tutto sto pippone perché ragazzi questi aspetti sono aspetti che non possono essere e non vogliamo neanche trattare in video gratuiti su youtube uno perché non gli dareste il peso giusto ok? perché come diceva il mio grandissimo mentore con cui sono cresciuto professionalmente chi non paga non presta attenzione questo è verissimo se questo video l'aveste pagato per quello che vale cioè 500 euro gli avreste dato un altro peso ma giustamente lo vedete gratuitamente e dite ma si cazzo mi sta dicendo delle cose no ma io ho capito quindi chi di voi ha compreso che queste tematiche sono tematiche che vanno approfondite vanno approfondite in un modo metodico in un modo strutturale che ci faccia capire come fare un certo tipo di analisi quali sono quegli elementi da tenere in considerazione quali sono quei pezzi del puzzle che costituiscono una strategia e tutta un'altra miriade di aspetti logicamente abbiamo dei percorsi dedicati abbiamo fatto tutto questo anche per questo per migliorare la condizione di tanti musicisti artisti poi chi applica ha un determinato risultato e ha determinati riscontri la maggioranza dei casi semplicemente sono informazioni che non vengono applicate quindi io lì dico non è nostra responsabilità ma se tu hai capito che questi temi sono fondamentali per la tua crescita per il tuo sviluppo per la tua capacità di alzare il dito medio a situazioni dove anche tu diciamoci la verità non c'hai più voglia di stare perché anche qui scusatemi se mi dilungo ma c'è ci si lamenta tanto per esempio del sistema didattico musicale italiano su più livelli ma grazie a sta ceppa perché perché la verità è ad esempio che la didattica musicale in Italia viene fatta da persone che e da musicisti che utilizzano il binario didattico perché sennò al contrario morirebbero di fame perché non conoscono tutta una serie di meccanismi e procedure per portare a mercato i loro servizi le loro competenze le loro capacità e quindi cosa fanno sono schiavi di che cosa della data 50 euro della lezione nella scuola di musica a 18 euro lordi o 20 euro lordi o 25 euro lordi ok oppure di situazioni ancora più grottesche che non voglio di cui non voglio parlare per cui se voi capite che tutto questo sono aspetti che noi portiamo fuori e li portiamo attraverso percorsi come quest'ultimo che è in uscita ok che è il sistema esatto per monetizzare nel nuovo mercato della musica e quindi per lavorare nel nuovo mercato della musica sappiate che avete la possibilità in questo periodo natalizio di ottenere delle scontistiche ci sono delle offerte dedicate potete scaricarvi la nostra anteprima al link che trovate sotto tutti i nostri percorsi hanno rimborso 100% per cui non sei contento delle informazioni che hai ricevuto non sei soddisfatto perché tutto quello che hai applicato non è stato impattante realmente non c'è nessun problema ti ridiamo indietro i soldi amici come prima ok perché non siamo qua a prendere in giro nessuno ok il nostro scopo il nostro obiettivo è quello di far crescere le persone con cui lavoriamo se no noi stessi saremo totalmente inutili per cui io spero che questo video ti sia servito sia stato di aiuto in qualche modo se vuoi scriverci una mail il nostro contatto lo trovi facilmente ok lo trovi qui sopra e che dirti scaricate l'anteprima dacci un'occhiata sappi che per tutto il periodo di Natale fino alla Befana ci sarà la possibilità di accedere con particolari scontistiche datti una mossa datti da fare inizio a pensare che questi temi ragazzi scusate come hanno cambiato la vita a me in primis come persona che fa musica da tanto tempo e che ha trascorso vent'anni più di vent'anni dietro uno strumento questo potrà aiutare anche voi arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie a tutti